Lo sapevi che? Ecco 10 curiosità sui fichi che forse non conosci. Prima di iniziare il video, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora, immergiamoci nel nostro video. Fichi e vespe. I fichi sono impollinati da piccole vespe, che entrano nei frutti attraverso un piccolo foro. Tuttavia, il processo di impollinazione è così efficace che raramente rimangono parti di vespe nei fichi maturi. Antica delizia. I fichi sono stati coltivati da migliaia di anni ed erano un alimento molto apprezzato nell'antica Grecia e nell'antica Roma. Erano considerati una prelibatezza e venivano spesso offerti come doni agli dèi. Fichi secchi. I fichi secchi sono una delle forme più antiche di frutta secca. I primi riferimenti a fichi secchi risalgono a circa 5.000 anni fa, in Mesopotamia. Versatilità culinaria. I fichi possono essere consumati freschi o essiccati e vengono utilizzati in una varietà di piatti, da insalati a formaggi, fino a dolci come torte e gelati. Ricchi di fibre. I fichi sono una buona fonte di fibre, che possono sostenere una digestione sana e contribuire a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Fichi e storia biblica. I fichi sono menzionati più di 50 volte nella Bibbia. Ad esempio, nel Vecchio Testamento, Adamo ed Eva usarono i fichi per coprire le loro nudità dopo aver mangiato il frutto proibito. Ficus carica. Il fico comune. Noto con il nome scientifico ficus carica, è originario delle regioni mediterranee ed è una delle prime piante coltivate dall'uomo. La sua storia di coltivazione risale a circa 11.000 anni fa, rendendolo uno dei frutti coltivati più antichi al mondo. Benefici nutrizionali. I fichi sono una buona fonte di potassio, magnesio, vitamine del gruppo B e antiossidanti. Possono contribuire a migliorare la salute del cuore e la salute delle ossa. Varietà di fichi. Esistono oltre 700 varietà di fichi in tutto il mondo, ognuna con caratteristiche di sapore e aspetto leggermente diversi. Simbolo di prosperità. In alcune culture, i fichi sono considerati un simbolo di prosperità e abbondanza, ed è tradizione portare fichi come doni durante le festività. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Tisily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. I fichi sono non solo deliziosi, ma anche ricchi di storia e significato culturale. Queste curiosità aggiungono un fascino extra a uno dei frutti più apprezzati al mondo. Se questa panoramica dei fichi ti ha affascinato e ti ha ispirato, ti invitiamo a condividere il nostro video con amici e familiari. Clicca sul pulsante condividi qui sotto e diffondi la conoscenza su questa meravigliosa e antica delizia. E se vuoi continuare a esplorare il mondo dei sapori e delle curiosità alimentari, iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche per non perdere neanche un video. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!